Musica Si è tenuto sabato scorso, in un noto bar di Molina di Vetri sul mare, un importante e molto partecipato incontro, promosso dall'Associazione Culturale La Congrega Letteraria con la collaborazione del Comitato Uniti per Molina, all'indomani del crollo di una consistente parte dell'acquedotto medievale, noto come Ponte dei Diavoli. Dopo una completa disamina storica e archeologico-architettonica, a cura dello storico Aniello Tesauro e dell'archeologa molinese Gaetana Liuzzi, si è sviluppato un interessante dibattito, tra e con il folto pubblico presente, proveniente non soltanto dalla frazione Molina, ma anche da altre zone di Vetri sul mare e dalla vicina Cava dei Tirreni. Accanto alle reali difficoltà burocratiche, che di solito seguono eventi nefasti e ne accompagnano le aspicabili soluzioni, è emersa una chiara volontà di attrezzarsi per avviare concrete iniziative. In particolare, si chiede agli enti preposti alla tutela del patrimonio comune, sovrintendenza di Salerno e comune di Vetri sul mare in primis, di avviare, quanto prima, la messa in sicurezza di ciò che resta della struttura, onde evitare ulteriori danni e rischi per cose e persone. Ed impegnarsi nel recupero e nella custodia del materiale crollato, tuttora alla merced di chiunque passi, in vista di un restauro, almeno parziale, di un simbolo del territorio. Inoltre, è stato chiesto all'amministrazione comunale di porre mano ad una nuova mappatura dei beni presenti sul territorio, poiché lo stesso acquedotto, come sorto dalla discussione, non era censito. Unitamente a queste istanze e alle iniziative poste in campo da altri gruppi civici del territorio, è nuovamente emersa quella che sollecita una maggiore attenzione ai percorsi naturalistici e di trekking urbano, e comunque di interesse storico-socioculturale, che esistono sul territorio vietrese, come la strada del santuario di San Vincenzo o il sentiero Italia, che attraversa tutta la penisola e che a vietri passa, partendo dalla badia di Cava, per San Vincenzo, Tresara, appunto Molina, per poi raggiungere la valle di San Liberatore, e da qui Canalone e il centro storico di Salerno. Molti comuni italiani, infatti, stanno presentando progetti per accedere a finanziamenti del PNRR, sia per il ripristino di porzioni di questo sentiero, in particolare quelle con caratteristiche storiche, paesaggistiche e religiose, che possano diventare attrattori turistici.